Salve a tutti siamo qui con un nuovo video di Black Ops 2 Mob of the Dead e oggi abbiamo fatto l'easter egg Abbiamo completato tutto ciò che c'era da fare quindi tre cicli interi dell'aereo Poi abbiamo preso la spingarda, poi modificata, l'acido Poi abbiamo tirato via il poster dal muro Preso anche il cucchiaino, sì anche se non era necessario Poi vabbè comunque ci sono i tutorial su internet Se volete farlo anche voi potete andare a farlo a vedere come si fa Si può fare in quattro ma noi eravamo in tre quindi l'abbiamo fatto in tre L'ultimo passaggio sarà collegarsi a andare in afterlife tutti e tre E salire sull'aereo appena montato, quindi il quarto ciclo Saltando e tenendo premuto quadrato E come sempre vi troverete sull'aereo E la vita non scenderà Quindi attendete che l'aereo vada sul ponte Comunque sia per farlo avete bisogno di Weasel che è uno dei personaggi Che sarà quello che nell'easter egg diventerà cattivo e voi dovete ammazzarlo Adesso tra un po' vediamo chi è Ok quindi siamo sul ponte Ci basterà rianimarci Ecco qua E poi Quello lì è Weasel Che noi dovremmo uccidere quando ce lo dirà il gioco Quindi aspettiamo un attimo Ok adesso ha il mirino sulla testa Quindi possiamo ucciderlo Anche se non ha Non ha opposto resistenza Va bene quindi questo era l'easter egg di Mob of the Dead Arrivederci a tutti Ci vediamo in un prossimo video Ciao